Musica Prima seduta dopo la pausa estiva del Consiglio regionale della Toscana, in apertura la necessità di votare nuovamente il vicepresidente del Consiglio dopo la decadenza di Stefano Scaramelli. Questo a causa della riduzione del numero dei consiglieri che compongono il gruppo d'Italia Viva. Stefano Scaramelli con 20 preferenze viene confermato. La proposta era nata dal capogruppo del PD. A ricevere voti anche Elena Rosignoli, 4, Silvia Noferi, 2, Lucia De Robertis, 1, 11 sono state invece le schede bianche. E' soddisfatto il rieletto vicepresidente dell'Assemblea. Sì, un'elezione non banale né scontata. Essere eletto per tre volte in tre anni, rieletto sempre vicepresidente del Consiglio regionale, per me che rappresento una forza politica come Italia Viva, che in questo momento sto rappresentando da solo in Consiglio regionale della Toscana, è un motivo di soddisfazione, ovviamente di orgoglio, che consolida da una parte l'intesa di governo Partito Democratico Italia Viva a sostegno del presidente Gianni in Toscana, che dimostra il nostro collocamento nel campo del centro-sinistra in questa regione rispetto a un'azione di governo che prosegue per un impegno assunto con i cittadini che vogliamo portare avanti in maniera leale, coerente e corretta e nello stesso tempo credo ci sia anche un apprezzamento a un lavoro istituzionale che ho svolto in questi tre anni, non soltanto guidando l'Aula, lavorando con il presidente Mazzeo, lavorando con l'ufficio di presidenza, sempre portando istanze e proposte nuove, se penso a tutte le leggi fatte sui giovani, sulla cultura, su una serie di iniziative legislative che ho avuto modo di concretizzare. Quindi una elezione complessa che ha portato però a consolidare un'intesa politica e a riconoscere anche un lavoro svolto, delle quali onestamente ho ringraziato pubblicamente le colleghe e colleghi ovviamente della maggioranza per la fiducia accordata a me. Ma la ripresa dell'attività ha coinciso anche con altri due cambiamenti all'interno dei gruppi politici. Italia Viva, come detto, perde un consigliere. Maurizio Sguanci, infatti, passa a forza Italia. Io credo che a fronte di fatti oggettivi, di quello che è l'indirizzo, per quello che riguardano le infrastrutture, per quello che riguarda la sicurezza, per quello che riguarda la gestione della città, ma anche nei macrotemi a livello nazionale, per quello che riguarda il job act, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, per quello che riguarda la riforma della giustizia, ci sia molta meno distanza tra Italia Viva e Forza Italia che non tra Italia Viva e il Partito Democratico. In solito, sottolinea il passaggio dalla maggioranza all'opposizione. Vorrei dire io, questo primato, che sono il primo nella storia del Consiglio regionale toscano a passare dalla maggioranza all'opposizione. Questo dovrebbe dirla a lunga. Cosa cambierà adesso? A mio avviso stare più vicino al territorio e meno nel palazzo. Bisogna sapere ascoltare più e meglio le persone, cercare di stare sul territorio seguendo le necessità dei territori piuttosto che le dinamiche dei collegi. Da tempo l'abbiamo annunciato, adesso viene ufficializzato. Elisa Tozzi, dal gruppo misto, aderisce a Fratelli d'Italia. Il percorso che scelgo è quello di Fratelli d'Italia, un partito che ha dimostrato di poter essere espressione anche di un mondo che si apre verso vari aspetti, un'apertura al mondo moderato, un'apertura a quello che è il progetto conservatore in vista delle elezioni europee. Un partito che ha dimostrato di essere, con la sua presidente Giorgia Meloni, un partito che può davvero aprire ad una classe dirigente nuova per il Paese. Abbiamo una presidente del Consiglio che ha dimostrato di essere persona credibile, di essere persona preparata, che ha trovato anche un suo credito in Europa e anche a livello internazionale. Io credo che qui ci siano tutte le premesse per fare un lavoro da un punto di vista di contenuti, da un punto di vista di percorso politico, che può davvero dare qualcosa in più rispetto a quella che è la proposta che oggi abbiamo sempre visto in Toscana. Io credo che più un partito si apre, più un partito lancia il confronto, più un partito è pronto anche ad affrontare delle sfide con il supporto anche dell'attività di governo, davvero oggi, come dire, schierarsi e quindi fare una scelta di campo nell'ottica di un 2025 che possa davvero portare al cambiamento del governo regionale, ecco, io credo che questa sia davvero un'occasione preziosa e quindi ho ritenuto che fosse importante schierarsi e dare il proprio contributo. La riforma del servizio di emergenza urgenza in Toscana da tempo è al centro dei lavori della Commissione Sanità, dove numerose sono state le audizioni delle varie realtà del volontariato operanti sul territorio regionale. In aula arriva una risoluzione frutto del lavoro di sintesi che trova il voto unanime. Tra i punti più importanti quello di garantire il massimo coinvolgimento del volontariato, di dare seguito agli accordi sui costi del servizio e soprattutto di realizzare una omogeneità del servizio in tutta la Toscana. È una delibera della giunta regionale che prevede una organizzazione omogenea su tutto il territorio regionale. Finora avevamo una situazione a macchia di leopardo, con zone dove il servizio si basava essenzialmente sulla presenza di ambulanze con il medico a bordo e in un'altra parte dove invece il medico non è più a bordo dell'ambulanza ma sull'auto e ci sono poi altre forme di mezzi di soccorso, l'ambulanza con l'infermiere, l'ambulanza con i volontari soccorritori e basta. Ecco, il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale, dall'incontro con l'associazione volontariato è venuto fuori necessità a che vengono coinvolte in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie, le associazioni volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza urgenza, b, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, il risorio come 50 centesimi talvolta crea un appesentimento burocratico che si può eliminare e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. E infine il dato dei costi, di aggiornare l'intesa dell'agosto 2022, tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito, essendo presente, chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi che il Consiglio oggi ha dato. Come detto, la risoluzione passa con voto unanime e soddisfatti, si dicono anche i consiglieri di opposizione. Allora, siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza-urgenza. Avevamo chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze, avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra regione. La nostra mozione è stata spostata in commissione, a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della regione toscana e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti e la Commissione, con il Presidente Sostegni che ringrazio, ha lavorato a una proposta di risoluzione che è stata approvata sia in commissione che oggi in Consiglio regionale. Quindi siamo soddisfatti e ci auguriamo che adesso l'assessorato competente porti a compimento quelle che sono appunto le richieste della Pris. La sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe, per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti, questi gridi di allarme devono essere recepiti. Credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa sia stato fatto. Si discute di salario minimo in aula attraverso due emozioni, una del PD, l'altra del Movimento 5 Stelle. Gli atti passano a maggioranza e impegnano la Giunta ad attivarsi presso il Governo per sostenere questo strumento. Per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un eco reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo, ancora oggi unica Regione in Italia aver fatto questo passo, che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale. Detto questo, il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al Governo facessero un passo in più. Il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD, ma con altre forze politiche. E quindi ci sembrava giusto, con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia, di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. Una battaglia di dignità, dicono PD e Movimento 5 Stelle. Per tutti quei lavoratori poveri, con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente il vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana, molti di essi sono persone che lavorano nel mondo, nel settore del turismo, come è stato identificato da IRPET, ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore. Tema complesso, dicono le opposizioni, difficilmente riassumibile in una mozione a Fratelli d'Italia. Vota no al testo dei pentastellati, non partecipa a quello del PD. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso, che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani, perché va superata l'epoca del salario a basso costo, da cui stavamo uscendo con grande difficoltà, anzi, stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione, ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il Governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte, i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre. Non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore. Ma che si fa a dieci giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del Governo, si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Il Partito Democratico l'ha fatta in termini per i quali ci siamo sentiti di astenerci unicamente perché non vogliamo bocciare in maniera aprioristica questa strada, potrebbe anche essere l'unica percorribile. A quel punto la sposeremo anche noi. Io oggi continuo a pensare che se in Italia ci fosse il salario minimo garantito già legge oggi alcuni grandi agglomerati economici, alcuni grandi multinazionali, alcuni grandi blocchi di potere economico che oggi sono costretti a ricorrere alla contrattazione collettiva nazionale, tra contrattazione collettiva nazionale e salario minimo sceglierebbero il salario minimo per guadagnarci loro alla faccia dei lavoratori. Dai banchi dell'opposizione c'è chi ha detto che la vostra battaglia è puramente ideologica. Beh, se è ideologico tutelare i lavoratori con un salario minimo penso che si sia sbagliato l'ideologia perché credo sia un beneficio di tutti. Peraltro ricordo che la legge che abbiamo fatto come Regione Toscana è stata approvata all'unanimità, quindi credo che se poi invece si porta la discussione sugli altri tipologi di lavoro, quindi ho sentito oggi parlare di partite IVA, di professionisti, sono ambiti diversi e non si può mettere sul piano che l'uno esclude l'altra. Un nuovo gioco inclusivo arricchisce una piazza in provincia di Pisa taglio del nastro a Marti nel comune di Montopoli in Baldarno in piazza Terreni. Abbiamo pensato ad un gioco, un gioco però che fosse inclusivo come lo è questa piazza inclusiva, quindi un gioco che può essere utilizzato da tutti, veramente da tutti i bambini. Per questo ringraziamo la Regione Toscana che ci ha dato una mano in questo senso e che ci ha aiutato a realizzare questa nostra idea di porre questa struttura qua su questa piazza che fra l'altro è in un borgo storico importante del nostro comune. Un progetto a cui io tengo tanto, con l'avanzo del Consiglio, la riduzione dei costi della politica, abbiamo finanziato questi parchi gioco inclusivi. Oggi siamo qui a Marti ma in tante parti della Toscana abbiamo deciso di sostenere iniziative rivolte ai più giovani, fare in modo che la Regione andasse sui territori davvero con risposte che possono sembrare piccole ma sono concrete e importanti. E la risposta che vediamo, lo sguardo, il sorriso delle ragazze e dei ragazzi ci riempie di gioia, vuol dire che la strada che abbiamo perseguito è quella giusta. Il bando si chiama Rigenerazione Toscana. In questo bando noi diamo risposte alle ragazze e ai ragazzi più giovani per quanto riguarda l'inclusività, per fare in modo che tutti possano avere gli stessi diritti. Mettiamo in campo iniziative a sostegno dei giovani che durante la pandemia hanno sofferto di più e quindi aggregazioni di ragazze e ragazze ci presentano i loro progetti e riescono a svilupparli. Insomma, l'obiettivo era restituire a chi negli anni della pandemia aveva sofferto di più e aveva sofferto di più proprio i più giovani e a loro con questo bando vogliamo dare risposte concrete. Grazie! 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 Grazie!